Salve cari amici, siamo lieti di darvi il benvenuto nel nostro studio su Alatra TV. Sulla piattaforma del movimento internazionale sociale Alatra, conduciamo interviste in tutto il mondo e chiediamo alle persone in che tipo di società vorrebbero vivere. Stiamo parlando di una società creativa, una società felice, dove l'uomo è amico dell'uomo, dove tutti vivono a proprio agio e si sentono felici. E oggi siamo lieti di accogliere nello studio il nostro ospite arrivato da noi dall'Italia. È DJ Papa. Le diamo il nostro benvenuto qua. DJ Papa è uno dei DJ più famosi in Italia. Si è esibito in molti eventi, come Grand Prix, Rolex Tennis Masters, Grand Royals Bowl e molti altri. Inoltre è art director e music writer del prestigioso radio show Buddha Bar e dirige il suo programma radiofonico internazionale a Monte Carlo. Quindi sono molto felice di darle il benvenuto qua da noi, DJ Papa. Grazie per aver dedicato del tempo a parlare con noi. Sono molto contento di essere a Kiev. L'esperienza dell'Ucraina è sempre qualcosa di fantastico. Grazie per avermi invitato. Sono felice di essere qui. Chiedimi quello che vuoi e avrai tutte le risposte che meriti. Come ha iniziato il suo percorso e il suo percorso creativo? L'amore per la musica ha avuto origine nell'infanzia oppure ha deciso di intraprendere una carriera musicale in un'età più consapevole? Sono molto vecchio e quindi la storia diventa veramente molto lunga. Ho cominciato quando non esisteva questo lavoro. Nessuno sapeva che fare il disc jockey potesse diventare un mestiere, un'arte. Ho cominciato molto presto, avevo 15-16 anni, con una musica totalmente diversa da quella che propongo oggi. Ho iniziato e ho seguito tutti i vari percorsi della musica. Ho iniziato con la musica rock, poi sono arrivati gli americani con la musica funky, la musica soul. mi sono introdotto nella parte disco con un piccolo excursus nella parte tecno, ma è stato solo un piccolo passaggio. E poi ho scoperto il mondo della lounge e della world music. avendo già tanti anni di esperienza, diciamo, nel campo della musica, cosa la espira a svilupparsi ulteriormente in questo settore, ad approfondire la sua conoscenza della musica, del mondo dell'uomo? Non è più un lavoro, è diventata una passione, è diventato qualcosa che hai dentro. Quando vuoi esprimere qualcosa e quando non riesco ad esprimerlo con le parole, cerco di esprimerlo con la musica. Quindi io mi alzo alla mattina e vado alla ricerca disperata di qualcosa che possa poi essere trasmesso a tutti quanti. Questa è la mia missione. Quindi possiamo dire che ciò che sente, il suo mondo interiore, sta cercando di trasmettere ad altre persone attraverso la musica e questa espressione di sé. Sì, io paragono il mio lavoro ad uno chef, uno chef di cucina che prepara un piatto e prende varie spezie dalle varie parti del mondo, intesa proprio come musica, e poi cucina questa cosa cercando di renderla più piacevole possibile e che il gusto e in questo caso l'udito possano avere queste sensazioni piacevoli. Fare il disc jockey è una cosa. Cercare di comunicare con la musica ha un altro sapore, ha un'altra dimensione. Paragonando la musica alla cucina, alla ricetta che sta cucinando, qual è la sua spezia preferita che aggiunge il suo capolavoro al suo piatto? È una domanda un po' difficile. La risposta è un po' complicata. Diventi uno chef nel momento in cui metti insieme tante cose. È molto più semplice costruire un piatto normale, ma la vera capacità di uno chef la riconosci quando ha messo insieme tante cose e ha formato una cosa che poi tu assapori, il tuo gusto, il tuo udito. Il percorso musicale, secondo il mio punto di vista, è prendere qualsiasi cosa da tutte le parti del mondo. Non ho un genere che preferisco. Adoro moltissimo un duduk. Mi piacciono molto le tablas indiane, i sitar. E tutto questo fa un genere musicale. Ascoltando la sua musica, si può davvero sentire l'influenza di diverse parti del mondo. una certa unificazione delle culture. Ci dica, è possibile con la musica si sforza di mostrare la bellezza di altre culture attraverso la musica, unire queste culture, portare all'unità delle nazioni? È la domanda che più mi piace. È la cosa che più mi piace quando mi chiedono questo. Perché secondo me il messaggio della musica è un messaggio universale. posso ascoltare una canzone con delle parole che non comprendo. Io sono italiano, lavoro all'estero, ma posso ascoltare qualsiasi cosa che non sia italiano, ma lo accetto. Perché è l'armonia che mi porta ad ascoltare le cose. Il mio punto di vista è molto semplice. Prenderei i politici, li siederei attorno a un tavolo di differenti nazioni e di differenti culture, religioni e farei ascoltare la musica. La musica è un messaggio universale. Quando crea la sua musica, i set musicali, quando combina suoni diversi, crea il suo capolavoro, diciamo, come si sente in quel momento e quanto è importante trasmettere quella sensazione interiore? Cosa vorrebbe trasmettere ad altre persone che ascoltano la sua musica? Che atmosfera vorrebbe creare? Non intendo più da molto tempo questa cosa come un lavoro. Per me è una passione. non riesco a suonare senza cercare di dare un'emozione e senza cercare di dare un'emozione a me stesso. Non è una cosa meccanica. È che quando entri dentro a una console per iniziare a suonare, io lavoro da 46 anni più o meno e ti posso garantire che ancora oggi prima di cominciare mi tremano le mani. Quindi credo sia forse la risposta più completa e più giusta da darti. Mi commuovo perché do tutto me stesso. Per me questo è molto importante. È il messaggio che si dà con la musica. È la sensazione. È l'onda che riesci a creare. Cioè comunicazione a un livello diverso, direi. Sì, assolutamente sì. È molto importante. Parliamo della musica come uno strumento. Lo strumento può essere di carattere distruttivo oppure può servire per creare qualcosa di buono, per rindurre alcuni sentimenti interiori in una persona, per essere ispirata a fare delle cose positive nella vita, per aiutarsi a vicenda. Può sia distruggere che creare. Secondo lei, la musica, che messaggio dovrebbe portare? E che influenza ha su una persona? È una domanda complicata, ma con una risposta estremamente semplice. La musica unisce e non distrugge. La musica costruisce una sensazione di libertà, di amore. È un messaggio. Non ho la pretesa di essere quello che abbatte tutti i muri politici e religiosi, ma posso garantirti che posso suonare due cose, una dopo l'altra, di due mondi diversi, di due religioni diverse, creando un'onda positiva. Anche se nello stesso posto ho delle contrapposizioni politiche, religiose, ma la musica non ha confini. Penso che conosci questa espressione che abbiamo, l'anima canta. Certo. Non so da dove provenga questo proverbio, ma è un proverbio che si addice a tutti quelli che fanno musica. E quando l'anima canta? Tutto il giorno. Quando sto bene mi fa stare meglio. Quando sto male cerca di tirarmi su. Ma io vedo la vita molto positiva. Ogni giorno hai qualcosa. Ogni giorno è una nuova avventura. Ogni giorno è qualcosa di nuovo. Ogni giorno scopri delle cose nuove. La musica è un messaggio talmente universale che sale dentro di te e crea qualcosa che ti arriva alla testa e ti fa vedere le cose tutto in maniera positiva. Si parla sempre del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Io non uso questo metodo. Per me il bicchiere non è mezzo pieno o mezzo vuoto. Io ho un bicchiere in mano. E questa è la positività. Grazie mille. È molto risonante, ben detto, trovare questa positività in ogni momento della vita. Diciamo che le celebrità, le persone creative, servono da esempio ad altre persone. Che responsabilità hanno per le loro azioni, per le loro parole, per la loro creatività? Molti li guardano, i giovani prendono l'esempio di persone famose. Che tipo di responsabilità hanno e quanto è importante dare questo buon esempio positivo? Continuo tutti i giorni a chiedermi perché la gente mi segue. E questa è una cosa che mi lascia un po' perplesso. Non riesco a volte a comprendere. Capisco che sono una persona un po' in vista, grazie alla visibilità che mi dà Monte Carlo, i brand che mi seguono. Mi rendo conto di essere a volte al centro dell'attenzione. ma non dimentico mai da dove sono venuto. Quindi per me la trovo una cosa normale, insomma. Io faccio musica, non faccio altro. Se questo le persone pensano che sia qualcosa di positivo, allora sono felice. non curo molto i look, le cose particolari. Sono molto basico. Apro l'armadio, mi butto dentro, esco con quello che mi rimane addosso. Magari con dieci colori al posto di uno solamente. Quello che voglio fare è suonare. Ci dica, viaggia molto in giro per il mondo. Hai incontrato molte persone diverse, provenienti da diversi paesi. Cosa pensa che accomuni tutte le persone del mondo, indipendentemente dalla religione, dalla nazionalità, dall'età, dallo stato sociale? Cosa abbiamo tutti in comune? Siamo tutti uguali perché viviamo tutti nello stesso posto. e secondo me c'è spazio per tutti. Bianco, nero, giallo, rosso, arancione, idiomi diversi, lingue diverse, culture differenti. Ognuno crea un proprio spazio in questo pianeta. Non dobbiamo dimenticarci che noi siamo una parte piccolissima di un disegno enorme. Noi viviamo nell'universo. Come possiamo avere noi la pretesa di poter dire a qualcuno di fare qualcosa che non fa parte della sua cultura. Possiamo migliorare tutti i giorni. Dobbiamo cercare di essere un po' più normali. Siamo nati in maniera molto semplice. L'atto dell'amore è qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Nasce una persona e occupa uno spazio. Diamogli lo spazio. Sono d'accordo con lei. Vorrei ricordare anche che oggi stiamo parlando sul tema società creativa. Questa è una società dove ogni persona vive felicemente, comodamente, in sicurezza, in armonia, nella gioia, nell'amore. Questa è una società dove le persone sono tutte unite e vivono come un'unica grande famiglia umana. E sulla piattaforma del Movimento Internazionale Sociale All'Atra questa società creativa è già oggi costruita dalle persone stesse. Ed è importante che partecipi ogni persona. Se tutti noi siamo uniti, allora costruiremo davvero questa società creativa. Ci dica, per favore, come vede una società in cui lei e i suoi cari vivete felici, benestanti, in piena sicurezza. Come vede questa società? Il mio mondo si potrebbe dividere in due parti. La parte della famiglia dove crei l'amore, l'armonia, ascolto la bella musica, cerco di trasmettere un messaggio positivo di pace. Indubbiamente la pace nel mondo sarebbe la cosa migliore che esista, però anche se è troppo banale da dire, ma la tranquillità, la serenità, l'uguaglianza tra tutti quanti. Questa è la parte romantica del mio pensiero. La seconda parte è un po' più selvaggia, perché amo delle cose che sono in contraposizione con la positività della musica. Mi piacciono i motori e quindi vengo da una cultura rock, biker, quindi sono un po' in contraposizione, ma questo dimostra che tutto può essere naturale, che tutto può essere allo stesso livello. i pensieri diversi, ma uniti, conformi, uguali. Ora parlando della musica mi è venuto un certo paragone. Se per esempio si prende un brano musicale o una melodia e se si toglie una singola nota questa melodia non suonerà più, non sarà più così armoniosa. E la stessa cosa si può dire della nostra società. Tutta questa armonia è creata da ogni singola persona. Se si toglie una persona non sarà più una società completa. C'è da tenere conto una cosa molto importante. L'uomo non è nato con la parola. L'uomo è nato con un suono. Tutto parte da un'armonia di suoni. Metti insieme molte armonie, molti suoni e produci un discorso. L'uomo non è nato parlando. L'uomo è nato emettendo dei suoni. I primi messaggi non erano parlati, non c'era la tecnologia di oggi. Quindi erano canti, erano preghiere, erano cori, erano dimostrazioni di suono, non di parola. L'uomo nasce con il suono e quindi la evoluzione del suono arriva alla musica. Quindi dovremmo tutti entrare semplicemente nella risonanza interiore? Non è poi così difficile da trovare. Devi dare la priorità alle cose che ti interessano. Se ritieni che l'armonia e la pace siano le cose principali per la tua vita, lavora per quello. Se invece pensi che tutto debba essere materializzato, allora quella parte non la troverai mai. Quanto è importante secondo lei sollevare temi di carattere morale, coltivare queste qualità in una persona, parlare di una società creativa? Quanto è importante ora parlare di un tale progetto come società creativa e chiedere alle persone come vedono questa società di persone felici? Io sono sono convinto che tutte le persone possano stare bene. Credo fortemente in un in un concetto di uguaglianza. Ognuno ha quello che che merita grazie al proprio lavoro, al proprio impegno e nei confronti personali e nei confronti del mondo. Noi siamo su questa terra di passaggio quindi dobbiamo lasciare delle tracce. ragione per cui credo fortemente che ognuno di noi debba avere la propria personalità per poter stare bene e trasmettere questa positività a tutti quanti. La tecnologia, il web sono tutte cose che aiutano a mandare informazioni. Se le informazioni sono positive i pensieri diventano positivi. se le informazioni sono dannose è chiaro che ognuno poi ha il giusto modo di interpretare. Il bene è diverso dal male. La bella musica è diversa dalla brutta musica ma è pacifico è normale. Il bene di consumo è la musica che tu ascolti tutti i giorni e domani non te la ricordi. Non ti ha dato niente. Non ti rimane nulla dentro. La grande musica, la bella musica non ha età. Un disco vecchio cioè un disco bello anche se vecchio è bello anche oggi. Il disco brutto di oggi non te lo ricordi più. Mi rendo conto che un programma debba avere una sua linea ma i miei DJ set non hanno una linea non sono preparati non preparo mai niente. è la sensazione che ti dà il pubblico che ti dà il posto che ti fa emozionare. La stessa cosa è la vita. Sì, le risposte sono molto interessanti. Grazie mille per aver condiviso la sua visione. Vorrei anche dire che sulla piattaforma del Movimento Internazionale Sociale Alatra stiamo testando una teoria chiamata 6 gradi di connessione. La teoria dice che siamo tutti familiari in tutto il mondo attraverso 6 o anche meno connessioni sociali e la invitiamo a verificare il funzionamento pratico di questa teoria. Invitiamo persone da tutto il mondo o da tutti i continenti e chiediamo a chi vorrebbero passare questa catena di connessione. Quindi oggi vorremmo chiedere anche a lei a chi vorrebbe vedere nella nostra prossima trasmissione a chi passerebbe il prossimo grado di connessione? A mio nipote. Piccolo? Certo. È una... È la generazione futura. È una persona ovviamente in questo momento molto piccolo da 5 anni ma ha la possibilità di poter comprendere e di poter capire tramite l'esperienza di un vecchio e tramite l'esperienza di suo padre. Questo è il messaggio secondo me da proporre a chi verrà dopo. Non lo so se un giorno si potrà sedere su questa sedia e rispondere alle tue domande però sono convinto che avrà qualcosa da dire e speriamo sia qualcosa di positivo. È l'ultima domanda che vorrei farle. Cosa potrebbe augurare ai nostri spettatori e a tutte le persone di tutto il mondo? Io vorrei dire a tutti quelli che stanno guardando in questo momento che viviamo un momento un po' particolare viviamo un momento un po' drammatico gli ultimi eventi hanno fermato il mondo gli ultimi eventi hanno rallentato molto tutte le attività dalla parte commerciale alla parte artistica voglio dire che bisogna imparare a convivere con questi momenti voglio dire che bisogna essere decisamente molto positivi non nascondersi non fare finta di niente esistono i problemi e i problemi vanno affrontati mi ha fatto piacere essere qui perché oltre ad aver parlato di musica abbiamo parlato di vita e credo che l'abbinamento sia perfetto vita e musica o musica e vita perché il messaggio positivo tramite la musica è un messaggio positivo tramite il nostro parlare sono cose che dovrebbero andare nella stessa direzione visto che è l'ultima domanda che era l'ultima domanda ti anticipo e ringrazio tutti quelli che stanno guardando sperando proprio che questo sia un messaggio che arrivi a più persone possibile pensare positivo non avere paura domani mattina il sole nasce di nuovo domani mattina sarà un'altra avventura sarà un altro giorno certamente una sorpresa non abbiamo la bacchetta magica per capire che cosa succederà domani facciamo in modo che quello che succederà domani sia una cosa positiva questo sì sono assolutamente d'accordo rimanere umani in qualsiasi situazione grazie mille per essere venuto a condividere la sua opinione oggi per aver trovato tempo per le sue risonanti risposte grazie mille molte grazie grazie a voi grazie a tutti e speriamo di avere la possibilità di poterci rivedere in un'altra volta grazie mille cari telespettatori grazie per essere stati con noi a guardare questa meravigliosa trasmissione e se volete unirvi al nostro progetto della società creativa vi invitiamo ad accedere al sito allatroyunites.com scegliere la vostra lingua premere il pulsante unisciti a noi e compilare un modulo molto semplice e a breve grazie per essere stati con noi oggi e ci vediamo nella prossima trasmissione grazie a tutti